Ciao, sono Marco Micheletti, sono President Team dell'azienda Herbalife, il che significa aver costruito una grossa rete commerciale e trarne degli importanti vantaggi economici. Ora in pochi minuti ti darò un accenno su quello che è la nostra opportunità commerciale, parlando un paio di minuti dell'azienda, chi è Herbalife, cosa sono i nostri prodotti. Herbalife è un'azienda che produce integratori alimentari dal 1980, significa che da più di 30 anni l'azienda si occupa di produrre, sperimentare ovviamente e produrre integratori alimentari. Qual è la filosofia dell'azienda Herbalife? È molto semplice, la filosofia commerciale si riduce praticamente in un punto importante, l'azienda non investe in pubblicità tradizionale, quindi per esempio non ci sono spot televisivi, perché questo? Per risparmiare dei soldi, risparmiare dei soldi in modo da poterli rinvestire su ricerca, sperimentazione e materie prime, in modo da portare sul mercato un prodotto di altissima qualità. Come si capisce di base quando un'azienda investe tanto in ricerca per esempio? Dai nomi che compongono lo staff scientifico, qui giusto per citarne due, i più importanti, uno è un premio Nobel per la medicina, il dottor Ignarro, premio Nobel 98 per la medicina e l'altro è il dottor Iber, considerato all'unanimità uno dei più grandi nutrizionisti al mondo. Questo perché l'azienda si può permettere di pagare due scienziati come questi? Perché tieni conto che l'anno scorso Herbalife ha fatturato una cifra vicina ai 4 miliardi di dollari e mediamente quello che investe un'azienda tradizionale in pubblicità è quello che più o meno varia da un 10% a un 15%, quindi tieni conto che l'azienda ha risparmiato più di 500 milioni di dollari da investire in ricerca e materia prima. Cosa vuol dire? Anche per quanto riguarda la materia prima, come si può dimostrare che un'azienda produce prodotti con una materia prima eccellente? Semplicemente in questo modo, i prodotti non hanno controindicazioni per nessun tipo di persona, tutti li possono usare in qualsiasi stato di salute, sani, malati, anziani, bambini, sportivi, sedentari e non hanno neanche problemi di sovradose, vale a dire l'uso eccessivo, smodato, sbagliato anche di questi prodotti non può provocare danno a nessuna persona. Chi è che garantisce queste cose? È il Ministero della Salute che autorizza i prodotti senza controindicazioni e senza problemi di sovradosaggio. Ed in più abbiamo un'altra cosa che nessun'altra azienda italiana ha per quanto riguarda il settore alimentare, soddisfatti o rimborsati a 30 giorni. Quindi il cliente finale, il consumatore finale ha diritto ad avere un rimborso qualora non fosse soddisfatto dell'utilizzo dei prodotti. Vediamo ora la parte che più interessa ovviamente te stesso, che è quella dell'opportunità commerciale. Quindi Herbalife, abbiamo detto, produce gli integratori alimentari, però non ha una rete commerciale aziendale, quindi non c'è un direttore commerciale, rappresentanti, promotori, agenti, subagenti, ma si affida a una rete commerciale esterna che è composta da noi distributori indipendenti Herbalife. Quali sono i vantaggi di diventare un distributore indipendente? Uno è l'esclusiva dei prodotti, esclusiva dei prodotti, due, la possibilità di guadagnare fin da subito nella vendita diretta, che è una parte dei nostri guadagni, diciamo la parte più piccola in quantità di soldi, ora te la spiego. Chi diventa un distributore indipendente può guadagnare da un 25% e raggiungere anche il 50%, di solito si raggiunge il 50% in un mese o due per le persone che lavorano seguendo i nostri suggerimenti e i nostri corsi. Tieni conto che il programma nostro di punta si chiama Colazione Equilibrata e costa al cliente finale 100 Euro e dove se ne può ovviamente arrivare a guadagnare anche 50, chi è nella posizione del 50% e la posizione si chiama Supervisore. Questo cosa vuol dire? Che una persona che vuole guadagnare 4-500 Euro al mese con una decina di clienti lo può ottenere. Siccome il prodotto è di consumo poi non si deve affannare a trovare clienti nuovi tutti i mesi perché i clienti che utilizzano gli integratori significa che hanno capito la necessità degli integratori alimentari e quindi continuano a utilizzare integratori per il loro benessere, si trovano bene, hanno risultati, non solo continuano a utilizzare prodotti ma magari ne parlano anche a qualche amico, conoscente, parente, che è poi la base della nostra pubblicità e quello che comunemente viene chiamato passaparola. Il terzo vantaggio di diventare un distributore indipendente Herbalife, ovviamente per me è stato quello più importante, è la possibilità di costruire una rete commerciale propria. Ovviamente col supporto dell'azienda, dove tutte le pratiche amministrative e burocratiche se le smaltisce l'azienda, noi dobbiamo solo iniziare a costruire la nostra rete commerciale. Quali sono i diritti di chi costruisce una rete commerciale? Quindi abbiamo detto che la rete commerciale è tua e quindi è irrevocabile, l'azienda non ti può mai buttare fuori come potrebbe fare con un agente, con un promotore o con un contratto di agenzia. Irrevocabile, cedibile, è un'attività, essendo mia la rete commerciale, la posso cedere a chiunque voglio, sia parenti che amici, conoscenti, o comunque a qualunque persona che se la voglia comprare. E l'altra cosa importante è ereditabile. Nella ipotesi che io dovessi morire, ho già fatto testamento, ho nominato dei tutori e la rendita che arriva dalla mia rete commerciale andrà direttamente a mia figlia. E qui si racchiude un po' tutto questo, quindi c'è poco da dirci intorno alla nostra attività. In Italia ci sono circa 40.000 distributori che fanno l'attività part-time per 500, 1000 euro al mese e circa 1.500 invece che hanno costruito una bella rete commerciale e ne ricavano una rendita in royalties. infatti ci pagano in royalties come quelle di un libro, come quelle di un disco, come quelle di un film. Che c'è da fare ora? È molto semplice, parla con la persona che ti ha fatto vedere questo video, chiede informazioni se hai bisogno di fargli domande e chiede informazioni sul prossimo nostro corso di formazione che sarà un po' formativo ma molto di approfondimento per quanto riguarda la nostra attività e la nostra proposta commerciale. Io ti ringrazio per la pazienza che hai avuto ad ascoltare e vedere questa presentazione, spero di vederti quanto prima nelle file dei distributori Herbalife che costruiscono una rendita per loro stessi e per la loro famiglia. Ciao, a presto!